Chiedi per i feticisti per me, io sono qua perché voglio ringraziare la mia vita, è una persona che illumina le mie giornate, che rende genuina la mia vita ed è per questo che dirò fuori questo e vorrei davanti a tutti voi chiederle la mano questa sera grazie diamo Dalila, diamo grazie grazie ma sono morto ci vediamo tra due settimane cosa bello andiamo a trovare un altro gioco che ci piace allora detto questo penso di salutarvi ci vediamo tra due settimane spero fa schifo ragazzi, fa veramente schifo vabbè fra queste fortnite mi fa schifo fortnite evidentemente zio mi fa schifo fortnite che senso bello è zappo per forza per i tuoi piedi direi 45 ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo no una più sotto invece chat please come ha fatto come ha fatto vabbè però è importante lo sappiamo ce l'ho ce l'ho tanto non serve il primo lo snappero 3 2 1 San Bruschetta l'avevo detto l'avevo detto quelli sono quelli power ranger oddio che sciottino vabbè ragazzi vabbè finisce qui la partita anzi mo faccio io tiè basta a piander culo del tu nonno gico davanti a me no no they is cheating no 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 io sono troppo forte hanno restato lo sento vicino a me ragazzi è qua dietro di me dietro di me qua 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 ci si è qua 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 mi ha confermato cazzo di coligione lancio una flashbang lancio una flashbang lancio l'equipaggiamento marzo che cazzo è qua li ho ricordato chi è che comanda no ma stava una grossa sembrano belle gusti madonna bro che lo stai scherzando ma che cazzo hai fatto ma tutto bene non vedo tutti non vedo io ma zio ragazzi 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 ma zio ragazzi io qui lo dico e qui lo nego io sono lo sniper più forte mai esistito su verdans e dopo questa vado a prendermi una birra grazie a tutti Grazie.